La caserma Chinotto di Vicenza, centro di eccellenza per le Stability Police Units Coesp dei Carabinieri, ha ospitato la conferenza quadripartita di Vertice G4, un'iniziativa di cooperazioni multilaterale tra le gendarmerie e forze di polizia a statuto militare di quattro paesi, Francia, Italia, Spagna e Portogallo, sulla scia di un comune percorso finalizzato all'analisi delle attuali esigenze di collaborazione che guardano necessariamente alle sfide del panorama europeo. La cooperazione internazionale è sempre stata importante e oggi è diventata strategica. Siamo in un momento storico molto complesso, uno scenario internazionale difficilissimo, i nostri cittadini sono preoccupati, per certi aspetti sono anche impauriti per tanti motivi sociali e economici. Quindi le forze di polizia e le gendarmerie europee, soprattutto, che hanno questa vocazione territoriale, e questa militarità, che anche significa una vocazione sociale, devono cooperare, devono trovare delle motivazioni per mettersi assieme, per migliorarsi e soprattutto per dare un servizio di qualità ai cittadini. Nel corso del Vertice toccati i temi relativi alla tutela ambientale, allo scambio di buone pratiche in ambito cyber per restare al passo con le sfide tecnologiche e alla formazione congiunta. Io penso che la formazione sia tutto, la capacità di esprimere una professione nei modi migliori, in modo incisivo, in modo determinato, è chiaramente fondamentale. Annunciata la scelta di estendere il progetto Polaris dal 2017 in atto tra le istituzioni francese e spagnola, anche all'arma dei carabinieri e alla paritetica forza di polizia portoghese. A partire dal 2023 ogni anno sarà organizzato un modulo in favore di 40 militari, 10 per ogni forza di polizia. A rotazione le istituzioni aderenti ospiteranno le attività, nonché un modulo aperto ad altre forze di polizia europea.